buongiorno buongiorno a tutti eccoci per la rassegna stampa di oggi è martedì ventotto dicembre eh oggi su tutti i giornali praticamente si pone un tema eh cioè la quarantena ehm sostanzialmente l'esigenza di differenziare o addirittura eliminare differenziare tra vaccinati e non vaccinati tra coloro che hanno fatto il booster e coloro che non l'hanno fatta eh proponendo in particolare da parte delle regioni che sia eliminata addirittura o comunque ridotta per chi ha fatto eh i vaccini la quarantena perché perché stanno crescendo i i i contagi addirittura qualcuno ipotizza che potremmo arrivare come in Inghilterra in Francia a centomila contagi con intorno a capodanno e con e diciamo la quarantena per coloro che hanno avuto dei contatti ovviamente ehm rischierebbe di portare milioni di persone bloccate dentro casa con tutto quello che questo comporta dal punto di vista anche della ehm diciamo dell'economia e della 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 crescita del paese insomma una serie di conseguenze che appunto tutti i giornali guardate i titoli quarantena nuove regole il Corriere della Sera cambia la quarantena Repubblica la stampa quarantena nuove regole ehm ehm quarantena corta il giornale è l'ora dell'obbligo vaccinale vabbè qui l'intervista a Bonomi di Confindustria sul messaggero ma insomma è il tema eh obiettivamente che eh occupa le prime pagine di tutti i giornali ma allora andiamo a vedere innanzitutto che cosa ehm accade con la i contagi ce lo dice ce lo dicono tutti i giornali ma in particolare il Corriere della Sera eh ci dice che eh ieri ci sono stati trentamila ottocento dieci contagi i decessi sono stati cento quarantadue il totale dei ricoveri in terapia intensiva è di cento ventisei di mille cento ventisei ingressi in terapia intensiva ieri sono stati cento eh così eh la situazione eh cresce inevitabilmente dal punto di vista diciamo ehm del paese è la Repubblica che eh con Alessandra Ziniti a pagina tre ci dice un paese in isolamento dagli ospedali alle volanti i servizi rischiano lo stop tanti medici con tre dosi costretti a casa perché sono contatti di contagiati e interi dei parti in sofferenza questo è il quadro sul quale per l'appunto si tenta di intervenire come lo vediamo intanto dal Corriere della Sera la quarantena sarà cambiata e il governo convoca il CTS con i contagi moltiplicati tanti italiani in casa i timori per le attività le regioni chiedono una riduzione figliolo dice gli esperti sono al lavoro e poi c'è un'intervista con il sottosegretario Costa che dice con il richiamo si è più protetti anche da Omicron e non sono necessari sette giorni di isolamento che è però il contrario di quello che dice adesso non mi ricordo su quale giornale ma insomma Sileri eh che non è per niente d'accordo e dice attenzione dobbiamo essere più ehm dobbiamo essere più attenti forse è sul scusate perché adesso sto cercando al volo dov'è che Sileri aveva eh eccolo qua eh eh il sottosegretario Sileri dice sul tempo ci dice Luigi Frasca eh c'è ancora il rischio che ci si contagi per la variante delta che è quella che dà più problemi quindi non è d'accordo ehm eh e qui ci viene riportata anche la la proposta di Renzi se ci sono delle restrizioni facciamo le sole per i Novax non è giusto che chi è vaccinato paghi le scelte di altri così eh sul sul tempo ma tornando al Corriere della Sera poi per capire che a che cosa si punta ehm vediamo ehm Monica Guelzoni e Fiorenza Sarzanini eh nella pagina tre del Corriere della Sera nel loro retroscena l'ipotesi di azzerare lo stop per chi ha la terza dose le novità per il tracciamento guardiamo questa parte della quarantena dice i presidenti delle regioni ritengono perché per chi ha fatto la terza dose potrebbe essere eliminato il periodo di isolamento attualmente obbligatorio per chi ha avuto un contatto con un soggetto positivo le norme in vigore prevedono una quarantena di sette giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale con almeno due dosi e una quarantena di dieci giorni per chi invece non lo ha terminato l'ipotesi più probabile è che si elimini la quarantena per chi ha tre dosi e si riduca a quattro o cinque giorni la quarantena per chi ha soltanto due dosi ma tra gli scienziati c'è anche chi vorrebbe una linea più rigorosa che si limiti semplicemente a prevedere un isolamento più breve opzione ritenuta però insufficiente da chi ritiene che la velocità del contagio della variante Omicron rischi di bloccare il paese nel giro di un paio di settimane massimo un mese anche per questo gli scienziati valuteranno l'impatto che Omicron ha sulle ospedalizzazioni per i soggetti che sono vaccinati e se come risulta dai primi studi le conseguenze sono più lievi di quelle causate dalla delta non è escluso che alla fine passi la prima ipotesi cioè quella dell'eliminazione per chi ha fatto tre dosi questo ci dice il Corriere della Sera guardate ehm prendiamo un giornale come libero tanto per dare un controcanto ma insomma eh le le cose sono sul peggioro stesso modo ehm pagina due Antonio Castro il governo ci pensa isolamento più breve per i contatti stretti solo speranza dice no pressing delle regioni per cambiare le norme Federica dice eliminare la clausola per chi è richiamo figliuolo chiede il parere del CTS e domani ci sarà la riunione quello che abbiamo già visto e a pagina tre il titolo di libero è significativo liberiamo i vaccinati dalle quarantene inutili milioni di italiani sono costretti a stare chiusi in casa da negativi dopo aver fatto tre dosi palazzo Chigi cambi subito le norme oppure cittadini non si vederanno più dello Stato e a questo punto vorrei proporvi tre ehm tre editoriali il primo è sulla Repubblica di eh Fraioli andiamo direttamente a pagina trentaquattro della Repubblica dove ehm c'è questo articolo eh virus servono difese nuove e qui Fraioli dice che non basta più quello che abbiamo visto ma bisogna mettere in campo qualcos'altro e dice e allora ecco la necessità di una difesa che vada oltre l'arrocco che respinga il nuovo assalto riducendo al minimo le perdite in termini di vita umane ed economiche magari gettando anche le basi per una vittoria finale contro il virus nelle ultime ventiquattro ore schiere Fraioli si sono moltiplicate le ipotesi di fronte alla rapidissima diffusione di Omicron si è auspicata la revisione delle regole per la quarantena di chi è entrato in contatto con un infetto c'è chi ha proposto isoliamo solo i non vaccinati e che ha rilanciato no solo i positivi la logica appunto quella di non fermare nuovamente il paese i suoi servizi essenziali le sue attività economiche se il virus muta strategia non possiamo continuare a difenderci come all'inizio del duemilaventi si potrebbe obiettare e c'è chi l'ha fatto tra gli esperti di sanità pubblica che la strategia antipandemia esiste è solo una e si basa sulle evidenze scientifiche ma i governi compreso quello italiano non l'hanno mai applicata davvero sono quasi due anni ormai che ci viene portato ad esempio il sistema di test e tracciamento dei paesi come la Corea del Sud tuttavia da noi non si è andati oltre l'app immuni e le regioni hanno regolarmente depotenziati sistemi di tracciamento non appena i numeri dei contagi iniziavano a calare mentre invece è proprio quando gli infetti sono sotto i cinquanta ogni centomila abitanti che l'epidemia va tenuta sotto controllo per evitare che riparta l'altra mossa consiste nel potenziale il sistema sanitario nazionale in modo strutturale non solo con tanti contratti a tempo determinato come è stato finora omicron probabilmente metterà nuovamente a dura prova gli ospedali italiani intasando le terapie intensive e i reparti ordinari ma a parte la competenza maturata sul campo il virus non troverà nelle corsie una situazione molto diversa da quella di venti mesi fa in termini di personale medico la terza morsa la terza mossa forse la prima per importanza è potenziare la campagna vaccinale senza i vaccini morti sarebbero probabilmente 10 volte di più a parità di diffusione del virus e se invece fossero vaccinati anche i circa sei milioni di italiani che ancora non l'hanno fatto il covid potrebbe essere derubricato a una sorta di influenza generalizzata eh sì diciamo grazie dice quello solo che poi non è che li commetti l'obbligo vaccinare oppure chi non si vuole vaccinare e non è che più che cercare di convincerlo vuoi fare molto insomma questo non credo che si possa dare colpa al governo invece colpa al governo gliela dà eh schianchi a sulla sulla stampa pagina ventuno a proposito della contraddittorietà di eh alcune misure eh che cambiano vengono riviste che durano eh lo spazio di un mattino insomma la mette così schianchi anche il governo colpito dal virus tamponi anche per i vaccinati in luoghi chiusi o affollati anzi no abbiamo scherzato meglio accorciare la durata del green pass in origine erano dodici mesi poi nove ora sei e mentre dinanzi a dilagare di omicron le farmacie prese d'assalto non riescono a sostenere il ritmo dei test richiesti da qui a fine gennaio c'è qualcosa come sedici milioni di italiani che devono riuscire nella lotta contro il tempo di avere la terza iniezione e le regioni che devono eh provare a farcela obbligo vaccinale per tutta la pubblica amministrazione come non detto non se ne fa niente ora è il turno della quarantena avevamo capito che fosse necessaria per tutelare gli altri adesso è probabile che verrà ridotta per i vaccinati per evitare di bloccare il paese da qui a un mese ci saranno di certo scrive schianchi buone ragioni dietro ai ripensamenti del governo alle proposte lasciate rappelare e poi smentite dai decreti ma l'effetto che se ne ricava in questa eh fin anno eh gravata da numeri mai così alti di contagi è quella di somma di confusione di una situazione non precisamente sotto controllo in cui quello che valeva ieri potrebbe non essere più valido domani e viceversa conclude così schiaghi il condivisibile obiettivo del governo è non dover mai più ricorrere alla misura estrema del lockdown che come ripetono in tanti l'economia e forse neppure i nervi del paese che ci debbero più sappiamo tutti di doverci rassegnare a regole e limitazioni e smettendo il solito luogo comune degli italiani furbastri indisciplinati la stragrande maggioranza dei cittadini le ha seguite a lungo con scrupolo e pazienza ma la sensazione in questa fase di esserci infilati in un labirinto non sempre lineare di decisioni dove ci si spaventa e si introduce l'obbligo vaccinale per alcune categorie ma non si ha il coraggio di farlo per tutti dove a scuola si decide di cedere scusate di cedere alla dad anche con un solo contagio in classe l'indomani una nuova circolare del ministero della salute smentisce quello che era stato deciso il giorno prima dove le divisioni delle forze politiche di maggioranza alla vigilia dell'elezione clou del presidente della repubblica rischiano di approfondirsi e aggravarsi e invece ora più che mai servono scelte lucide e coerenti così la mette giù abbastanza dura la schianchi sulle incertezze del governo nelle decisioni e poi c'è senaldi e senaldi sul libero in prima pagina e che parla esattamente del tema della quarantena e delle misure che si devono prendere la chiusura è un'abitudine più contagiosa del virus non fa male e per molti è quasi materna coccola e manda in vacanza dalla vita con l'ottima giustificazione di sacrificarsi per non fare male al prossimo abbiamo quasi due milioni di italiani tappati tra le mura domestiche il settanta per cento di loro è negativo e il novanta per cento di questo sotto insieme è negativo e vaccinato quanto ai positivi solo lo zero virgola due per cento viene ricoverato mentre oltre il novanta per cento è sintomatico o ha evidenze non preoccupanti raffreddore qualche linea di freddo e mal di testa persone che se non avessero fatto il tampone penserebbero di aver preso una semplice influenza le previsioni degli scienziati nostrani suffragate dal paragone con le nazioni no vicine dove la quota la quarta ondata è esplosa prima ci dicono che dopo le feste arriveremo a centomila nuovi infetti al giorno significa che nella settimana del picco se ci va bene si ammaleranno un milione di persone probabilmente di più alla luce di questi fatti le ultime regole anti covid varate dal governo pur avendo solo cinque giorni sono già vecchie che fare allora il generale figliuolo ha sparato la cannonata stiamo riflettendo sul cambiare le regole della cruzura ha detto penna libera a penna libera in sintonia con il titolo del nostro quotidiano di ieri la quarantena dei sani il paradosso del covid la soluzione è semplice dice senaldi liberare gli immunizzati non positivi il governo da un anno ci dice che il vaccino e il green pass ci permettono di vivere come se nulla fosse ha puntato sulla tutto sulla profilassi di massa ora l'occasione di dimostrare che crede a quanto sostiene che i novax hanno torto ad accusarlo di godere a rinchiudere i cittadini e riempirli di obbligo i dati dimostrano che i vaccinati si ammalano poco e contagiano ancora meno lo provano centinaia di migliaia di casi città di casi cittadini negativi che vivono sotto lo stesso tetto con parenti infetti entro il trentuno gennaio il certificato verde sarà rilasciato solo a chi ha fatto l'iniezione da meno di sei mesi il che significa che gli italiani saranno di fatto eh a lasciarsi inoculare tre volte in mezzo anno ai cittadini è chiesta una fiducia nello stato che le istituzioni devono premiare altrimenti si rischia di dare fiato alle trombe novax se il governo continua a costringere in casa i sani la gente comincerà a chiedersi perché si è fatta le punture visto che per di più è acclarato che esse non schermano totalmente dall'infezione oltretutto con queste regole il paese rischia di fermarsi proprio quando dopo le feste dovrebbe ripartire se nulla cambia infatti la proporzione eh ci dice che a metà gennaio avremo cinque milioni di reclusi tre quattro dei quali sani significa bloccare la ripresa così eh Senaldi eh sul libro vedete che insomma tendenzialmente eh tutti dicono un po' la stessa cosa cioè il tema è un tema obiettivamente del quale il governo si trova a fare carico avete sentito citare i i tamponi e su questo voglio segnalarvi eh due alcune cose la intanto eh la Repubblica pagina due pagina due code e prezzi alle stelle il sistema tamponi va in tilt fatele solo ai sintomatici bisogna avere pazienza tanti fanno file ai black friday per un per un capo griffato eh la spesa per le famiglie è arrivata a dieci milioni al giorno questo è quello che ci dice la Repubblica il domani che ha sempre un approccio polemico tutta Italia in fila per il tampone e figliuolo non sa cosa fare si stive Selvaggia Lucarelli il commissario al covid dice che la gente è stata in coda per il black friday dunque deve avere pazienza anche ora ma intanto i virologi litigano il tracciamento funziona ancora con tutti questi casi e i ritardi si domanda Lucarelli sul eh domani ancora eh sul giornale a pagina tre a proposito sempre dei tamponi troppi tamponi va tolto a fine isolamento chi parla non è uno qualunque è il membro del CTS eh Lombardo eh Pregliasco eh dice per i vaccinati può essere eliminato dopo la quarantena eh vedete che diciamo eh di cose se ne dicono tante in qualche modo diciamo non è secondo me tanto quello che dice la schianchi sulle contraddizioni del governo ma sulle eh tante diverse posizioni che ci sono rispetto alle misure che si prendono se andiamo a proposito di tamponi sul messaggero eh a pagina quattro i dubbi sul test rapido se fatto troppo presto può dare falsi negativi dopo un contatto sospetto bisogna attendere settantadue ore prima del tampone secondo gli studi il quaranta per cento delle design delle diagnosi risulta in esatto meglio ripetere l'esame ehm questo è quello che ci dice il messaggero va bene chiudiamo anche il caso dei tamponi andiamo alla variante Omicron e qui ragazzi c'è ragazzi scusate c'è poco da c'è poco da dire nel senso che andiamo alle pagine otto e nove del Corriere della sera eh tosse mal di gola omnicon Omicron causa disturbi lievi a nove vaccinati su dieci le indicazioni raccolte dall'organizzazione mondiale della sanità Regno Unito Sudafrica indenni polmoni e recittori di gusto e olfatto questo è eh dice eh come è la variante Omicron ehm eh dice il fisico Battistona a Natale il ceppo era quarantacinque per cento si le ridice forse siamo già tra cinquanta e sessanta per cento a proposito della Italia ehm poi c'è un'intervista di Massimo Gaggi eh a eh Silvestri che è un patologo immunologo e virologo accademico italiano eh che dice il virus sembra raffreddorizzarsi ma solo per chi è immunizzato più green pass meno obblighi di test per chi è vaccinato e più elastici sulle quarantene vedete che anche queste sono le indicazioni che arrivano da eh un tecnico e gli ospedali non sono sotto pressione neanche nella Londra da un milione di casi questo è quello che dice Silvestri eh per quanto riguarda Omicron segnalo anche il domani a pagina tre ehm l'esplosione dei casi covid può portare a brevi lockdown variante Omicron e Andrea Casadio che è un medico e giornalista che scrive gli studi gli studi condotti finora sul nuovo scippo non ci permettono di chiedere se sia più o meno letale di detta vedete che qui aprite una pagina del giornale leggete una cosa ne aprite un'altra e ne leggete un'altra questo per altro oltre che il giornalista è anche medico quindi e dice ma essendo molto più contagiosa rischia di riempire in breve tempo le terapie intensive degli ospedali ecco avete letto che cosa dice invece sul Corriere della Sera ehm eh come si chiama ehm eh Silvestri che che dice eh che non che che gli ospedali non sono sotto pressione neanche a Londra insomma eh uno direbbe mettetevi d'accordo e fateci capire qualcosa ma insomma questo è eh il quadro e intanto si va avanti con i vaccini ce ne parla la stampa a pagina eh quattro eh terza dose dopo quattro mesi il vaccino non è yogurt con la data di scadenza chi parla è figliolo il generale figliolo a Torino annuncia il cambio di passo mi preoccupano i cinque virgola sette milioni non ancora immunizzati dice se dovremo correre di più lo faremo ma serve cautela è una scelta equilibrata anticipare il booster e ancora con il ministro Speranza è stata fatta una riflessione sul numero di persone in quarantena le fine per i tamponi si fanno anche per comprare i capi a Black Friday ci vuole pazienza e questo l'abbiamo visto già eh su altri eh giornali e invece sui vaccini c'è eh Bonomi il capo di compindustria che sulla sul messaggero un'intervista ampio su mille cose però dice siamo ancora in tempo per l'obbligo vaccinale dice ora o mai più il governo e partiti scelgano avanti sulle riforme eh e poi diceva bene smarrita la stella polare della crescita lì dei distratti delle elezioni e va bene ma insomma ehm e tra l'altro dice abbiamo spregato tempo e ora a causa di micron eh di omicron si rischia di frenare la ripresa e lasciare spazio alla pandemia insomma Bonomi che parla della manovra parla di eh Draghi Aquirinale eh dicendo che non vuole entrare il totonomi però soprattutto il titolo che fa il messaggero è sull'obbligo vaccinale eh ci sono conseguenze dirette in Italia eh una è sicuramente quella che riguarda il turismo ce ne parla la Repubblica a pagina quattro il turismo ha perso già quattro miliardi partenze ridotte il governo ci aiuti e Aldo Fontanarosa che scrive dopo un duemilaventuno difficile il settore contava sull'ossigeno dalle feste natalizie ma omicron ha sconvolto i piani annullati cinque milioni di viaggi sette restano in sospeso con commercio dice ripristinare la cassa integrazione e lo stesso tema viene affrontato anche dal messaggero a pagina sei eh l'anno nero del turismo la ripresa non si vede pioggia di cancellazioni e il report eh il duemilaventuno si chiude con centoventi milioni di presenze in meno rispetto al precovid San Galli con commercio dice subito nuovi sostegni e chiuderanno migliaia di imprese e se passiamo dal eh turismo alla scuola ehm rimaniamo sempre sul eh messaggero a pagina cinque scuola il pressing dei presidi tamponi per il rientro in classe Giannelli dice partiamo dalle zone dove c'è un escalation di contagi da omicron precedenza la fascia d'età cinque undici anni e FFP due da fornire anche agli studenti questo è quello che ci dice il messaggero di scuola si occupa anche il tempo a pagina tre e ehm il virus è dilagato a scuola la lezione non è servita ancora una volta come lo scorso anno boom di contagi e tra gli studenti rispetto al primo settembre oggi si registra il quarantatré per cento di pensioni più nella fascia zero nove anni e il ventisei per cento in più tra i dieci e diciannove anni eh la lezione non è servita dice il tempo vediamo ancora il foglio eh perché c'è sul foglio una lettera che ovviamente non ho la possibilità di leggere però di Miozzo che sapete è stato anche eh consulente del ministro speranza insomma delle delle del ministero della sanità e a pagina ehm eh qua eh pagina due dell'inserto dice una task force per la scuola è l'unica soluzione contro la Daz è una lettera appunto che Miozzo scrive sul eh foglio al direttore eh vediamo una panoramica sull'estero questa la prendiamo soprattutto da Repubblica che eh ci dice a pagina sei super green pass e booster a tre mesi la svolta di Macron restano aperti cinema e teatri no al coprifuoco a capodanno ma il caffè si dovrà prendere fuori a Ginori la corrispondente della Parigi di Repubblica se ci spostiamo invece in America del Massimo Basile da New York ci dice l'America cambia isolati solo cinque giorni positivi esintomatici le raccomandazioni le raccomandazioni dei cdc nessuna quarantena per chi ha fatto la terza dose vedete che eh all'estero già ci si muove su quello su cui in Italia si sta riflettendo e se andate poi con Elena Dusi eh a pagina otto ci si occupa del Sudafrica più vaccini ma niente quarantena così il Sudafrica sfida la variante sovrastato dai contagi il paese dove Omicron è stata scoperta per la prima volta ha abbandonato il tracciamento per spingere sul booster e isolamento solo per casi gravi contagi in crescita ma decessi e ospedalizzazioni in calo ehm così eh la ehm la Repubblica eh vediamo ancora per quanto riguarda invece se non sbaglio la Gran Bretagna c'è l'avvenire eh a pagina dieci ehm eccolo qua eh dubbi sul calo dei casi in Germania Regno Unito uno su dieci al virus perché perché dice l'efficienza l'efficienza tedesca sta andando in titte e si allungano i tempi per verificare la positività quindi in Germania qualcuno sospetta che le cose vadano meglio semplicemente perché il tracciamento è saltato e invece per quanto riguarda l'Inghilterra il premio d'inglese invece le prese con la fronda Tori continua nella linea non interventista questo è il quadro dell'impatto del virus fuori dai confini italiani veniamo allora adesso all'Italia la politica e alle cose di casa nostra e ormai il tema dominante la variante diciamo omicron politica è quella del eh delle elezioni del Quirinale eh pagina dodici del Corriere della Sera con Claudio Bozza colle i partiti in fibrillazione e avanza il dialogo Salvini Renzi la Lega con divisione o dal quarto voto si fa sul serio e il capo di Italia Viva può far pesare i suoi quarantacinque così la mette poi c'è la fotografia di Renzi che si parla eh al Senato con Salvini durante la legge di bilancio e questa foto per cui è diventata la foto della trattativa in corso tra Renzi e Salvini poi c'è un problema che riguarda il PD eh ieri c'era sul foglio un articolo di Bettini che eh mi sono e vi ho risparmiato e che però insomma in qualche modo diceva che non lo convinceva Draghi e questo ha aperto una palla dentro il Partito Democratico e Bettini è sempre nel bene nel si fa bene quando nel bene ma insomma eh come parla diciamo manda in fibrillazione il Partito Democratico letta stoppa chi dentro il PD gioca contro l'ipotesi Draghi decideremo senza sotterfugi e non si dice chi è ma Maria Teresa Meli che ne scrive sa che nella fattispecie è ehm ehm Bettini. Oh poi a pagina tredici c'è Antonio eh Antonio Polito nella sua rubrica che ha lanciato da qualche giorno il Fantacolle che francamente ehm ci risparmiamo perché ci manca solo questa ma eh comunque ci sono le varie ipotesi quando nelle prime tre votazioni gli diciamo ehm diciamo eh Draghi è quello che ha più probabilità gli viene dato un quarantacinque per cento invece eh è il quarto scutinio eh a questo punto c'è un cinquanta per cento per Draghi un trenta per cento Berlusconi un cinque per cento Casini un cinque per cento Amato. Dalla quinta alla settima votazione si dà un trenta per cento per Draghi un venti per cento per Berlusconi un venti per cento per Casini e Amato. Dalla ottava alla decima un quaranta per cento per Draghi un trenta per cento per Casini un venticinque per cento per Amato insomma non si sa bene a certo punto dalla undicesima in poi entra in ballo anche Gentiloni al venti per cento. Va bene questo è quello che eh ci dice Polito. Andiamo sulla Repubblica che ha un'impostazione eh diversa eh pagina dieci lo spettro di Omicron sul voto per inquirinale. Emanuele Lauria scrive la corsa dei contagi potrebbe lontà tenere lontano da Montecitorio un numero consistente di grandi elettori. Le stime prevedono fino a un dieci per cento di assenze. Complicato così raggiungere i quorum si lavora le misure di sicure gli ingressi per raggiungere l'urna saranno scaglionati. E a questo punto diciamo c'è chi come Azzariti che è un costituzionalista come molti di voi sapranno eh intervistato da Mirella dice bisogna accelerare i tempi la scelta avvenga al primo scrutino. Adesso per carità va tutto bene ma eh capisco la variante via dicendo non è che eh diciamo si può forzare troppo perché eh c'è la variante Omicron ma perché con questo ragionamento diciamo veramente possiamo pure prolungare la legislatura per i prossimi quindici anni insomma cosa un po' strano eh? I numeri della maggioranza qualificata non possono essere ridotti i partiti trovino un accordo rapidamente. Vabbè questo è quello che dice Azzariti e per me. Poi c'è Matteo Pucciarelli che a pagina undici ci parla di una donna al colle l'appello di Conte ai leader dei partiti il presidente momento cinquettelle ragiona sui nomi di Severino Moratti e Belloni niente preclusioni anche su Cartabio e Casellati beh bontà sua ehm Conte vabbè ehm eppure qui ci sta il tema Matteo Pucciarelli e della candidatura di Draghi che agita le le anime del PD Bettini l'ha scoperto con i dubbi sul nome del premier non tutti i temi in linea colletta questo è quello che ci dice eh la Repubblica andiamo anche su i giornali di destra allora andiamo sul giornale pagina otto eh dice due cose ehm colle cavallo di Troia PD cinque stelle e Conte ora vuole una donna i finti amici violante amato per tentare il centrodestra la russa dice ok al Cavaliere Calderoli dice può farcela al quarto voto eh poi c'è qui un'intervista con Mauro Zampini che ex segretario della Camera generale della Camera intervistato a Fabrizio De Feo che dice Draghi al Quirinale ma si rispetti la carta il modello presidenzialista ipotizzato da qualcuno è anticostituzionale lo dico perché lo leggo questo perché perché ci sono abbiamo visto commenti nei giorni scorsi ce ne sono anche oggi che vedremo tra poco in cui questo tema viene risollevato se andiamo sull'altro giornale del centrodestra che è libero andiamo a pagina nove ehm la corsa al Quirinale eh i Renziani mollano Berlusconi Massiglio all'arma Calderoli scrive Antonio Rapisarda il coordinatore d'Italia Viva Rosato dice non lo voteremo mai però lo stratega d'aula leghista prepara la tattica per superare il cuore tenteremo ogni strada per fare leggere il Cavaliere vabbè oh qui poi tra l'altro come vi avevo detto ieri avete visto che c'era l'editoriale di Ezio Mauro che eh sparava palle incadenate contro Berlusconi e in il toni sembrava veramente di aver eh di rileggere la Repubblica degli anni d'oro della lotta a Berlusconi e oggi Sallusti eh scrive sul giornale eh Ezio Mauro prende atto la guerra Cavaliere è persa ma soprattutto nell'occhiello il l'occhiello è titolato l'ultimo giapponese che è un po' quello che effettivamente ieri sembrava di eh vedere voglio segnalarvi a proposito dei rapporti tra eh Renzi e Salvini Aldo Torchiaro sul riformista a pagina sei e ci arriviamo subito tra l'altro oggi Aldo Torchiaro fa una bella intervista con Mughini eh a pagina due poveri noi nostalgici di intellettuali e vecchi partiti è una bella chiacchiera che per chi ha tempo eh con quel riformista vale la pena leggere ma insomma a pagina sedice eh Torchiaro incontro Renzi Salvini al senato iniziano le grandi manovre la foto rubata durante la voto il voto sulla legge di bilancio i due giocano in prima fila sui quirinabili va bene questo è eh Torchiaro sul eh riformista segnala ancora il messaggero a pagina sette ehm Draghi mal di pancia PD se va al colle urne subito è Alberto Gentili che scrive eh Letta apre all'ipotesi quirinale per il premier malumori nei dem ci logoriamo le condizioni del premier per restare basta con i condizionamenti dei partiti e poi si dice approfondire c'è capo lo stato democratici e momento cinque stelle pronti a far uscire parlamentare da Laura per evitare voti sotto banco a Berlusconi va bene eh questo adesso saranno le tattiche che cominciano. Oh il foglio ve lo segnalo perché ha tre cose e che non abbiamo il tempo eh di leggere ma ha un editoriale di Cerasa il segreto del metodo Draghi bilaterali con i leader le riunioni di quindici minuti per i tre consigli senza ordine del giorno le bozze trattenute i misteri del tu e quelli del lei i ministri del tu e quelli del lei il dietro le quinte di un cdm raccontato da alcuni ministri con un modello utile per i prossimi sette anni e vabbè qui finge sempre Cerasa poi c'è Ferrara e vedete il tema del ehm presidenzialismo la costituzione è presidenzialista il passaggio di Draghi a Colle non sarebbe un rischio repubblicano e poi eh ancora eh invece c'è i sussurri del Cavaliere con Valerio Valentini sul Colle faccio sul sul serio Draghi non è amato i scenari che immagina eh Valerio Valentini eh sul foglio ma a questo punto andrei direttamente commenti comincerei da eh Folli sulla Repubblica pagina eh trentacinque dove andiamo subito ehm ehm diciamo ehm ehm Folli mette in evidenza il fatto che Putin ha detto che l'Italia potrebbe giocare il ruolo nei rapporti eh tra ehm ehm Ucraina Russia e via dicendo e che ehm questo avviene dopo che Draghi aveva detto aveva parlato in qualche modo non male di Putin e poi il fatto che è andata via la Merkel e la Germania non ha ruolo insomma dice l'Italia grazie a Draghi potrebbe avere un ruolo che gli abbia riconosciuto il sentiero è stretto dice ma se l'ambizione è a crescere il peso italiano in Europa Draghi è l'uomo adatto il punto è che una missione di questa complessità si può tentare da Palazzo Chigi molto meno da Quirinale e vedete che qui ritorna il tema di chi si vuole eh che che Draghi rimanga a Palazzo Chigi è vero che il presidente della Repubblica ha da sempre un druade regare un diritto di supervisione sulla politica estera e militare prerogativa regia ereditata dalle istituzioni repubblicane spesso esercitata tuttavia una mediazione come quella evocata da Putin ammesso che sia realistica richiede l'impegno diretto dell'esecutivo e del suo capo ma si concilia con le funzioni e poteri attuali della presidenza ciò riporta la discussione al punto di partenza se sia ospicabile per l'Italia il passaggio di Draghi a Quirinale ovvero la conferma a Palazzo Chigi in modo assai opportuno il premier si è dichiarato al servizio delle istituzioni di fatto dicendosi pronto per il Quirinale è per altro disposto a restare dovessi e i partiti decideranno in tal senso in concreto proprio l'intervento di Putin dimostra che non è vero che chiunque può prendere il suo posto alla guida del governo un ruolo internazionale può essere sbotto dall'ex presidente della BCE con il suo prestigio ma non può essere surrogato attraverso una specie di telecomando da remoto in altre parole Draghi a Quirinale implica una curvatura dei poteri presidenziali senza la quale egli vedete che ci ritorniamo senza la quale egli non sarebbe in grado di agire nel modo incisivo che gli è congeniale è una novità che dovrebbe essere regolamentata attraverso un intervento costituzionale altrimenti si rischia una sovrapposizione di funzioni e un ingorgo istituzionale specie dopo le elezioni che restituiranno legittimazione popolare ai partiti vincitori o sconfitti Draghi non ha sfidato le forze politiche le ha anzi incoraggiate a decidere in effetti un eccesso di esitazione a gennaio rischia di disarticolare quel che resta del sistema su questo ha ragione Goffredo Bettini quando scrive che la politica deve essere capace di un colpo d'ala anche nel caso scegliesse Draghi per il colle così la mette e folli poi c'è ehm eh Zacchè sul giornale eh che ehm diciamo ehm parla eh di un del fatto che il titolo lo dice chiaro l'emergenza dietro il colle cioè dice che i partiti sono presi dalla cosa del colle e non si rendono conto che c'è un'emergenza qual è l'emergenza quella del caro bollette della crisi della cosa energetica insomma la crescita scrive tra l'altro Zacchè la crescita del PIL di quest'anno che sarà superiore al sei per cento è una sorta di rendita su cui il paese sta vivendo grazie all'inerzia generata dal primo effetto di vaccini in un anno eh di un anno fa e cioè il rimbalzo di un'economia che nel duemila venti si era improvvisamente inchiodata con il lockdown ma quando questo stesso rimbalzo è iniziato a generare gli effetti collaterali dell'eccesso di domanda globale quella rendita ha mostrato tutta la sua fragilità generando inflazione mettendo a rischio la ripresa soprattutto in un paese come l'Italia che controlla assè poco l'offerta di materie prime ed energia il trend era ben visibile fin dall'estate scorsa esattamente da quando il semestre bianco ha paralizzato la politica e di conseguenza l'azione di un governo come questo di unità nazionale in altri termini quando per sostenere l'economia si è capito che l'effetto rimbalzo aveva ormai giorni contati la politica non ha avuto né forza né coraggio di controllare l'economia su una corsia preferenziale come uno sforzo straordinario di comprensione dei fenomeni globali in atto per trovare e proporre soluzioni l'attenzione del governo è improvvisamente calata rimanendo stagio della corsa al colle l'elezione del presidente della repubblica ha assorbito tutte le energie della politica andando senz'altro al di là di ogni razionalità e in ultima analisi indebolendo il governo stesso ma così la distanza tra palazzo e realtà è tornata ad allargarsi a dismisura nell'immaginario di una nazione composta da milioni di famiglie e imprese a cui non interessa altro che capire chi sarà il prossimo inquilino del Quirinale a beneficio di un partito con il rischio di fregare non altro i numeri impietosi di questi mesi sui rincari di luce e gas che colpiscono sia le imprese sia le famiglie e si riflettono sulla produzione sia sui consumi raccontano un'altra storia un'altra storia così zacchè eh sul giornale ma a questo punto vi voglio proporre eh altre tre cose la prima è Cassese Cassese spiega per quale ragione non è bene sciogliere le camere non solo dal punto di vista diciamo di eh ragioni che sono gli occhi sotto gli occhi di tutti eh nel senso che ehm eh prende il fatto che alcuni dicono che il questo parlamento non rappresenta più il paese e quindi diciamo eh bisogna scioglierlo rapidamente per ehm portare una fotografia più realistica del paese e dice questo non accade per due ragioni intanto la volatilità volatilità volatil va bene la volatilità dell'elettorato eh e dice in effetti diciamo dai non solo nei sondaggi ma in tante occasioni e ci rendiamo conto che la Lega è passata in pochi anni da quattro a quaranta e poi riscesa Fratelli Italia è passata a quattro a venti il PD è sceso quindi diciamo c'è una volatilità dell'elettorato che non consente di dire questo e poi dice anche eh sarebbe abbastanza strano che un presidente appena eletto mandi a casa i suoi elettori che sono i parlamentari dice poi ancora sono invece importanti due aspetti strutturali e questi riguardano il potere di scioglimento e le durate delle cariche dei vertici dello Stato andiamo a pagina ventotto dove prosegue Cassese eh che la mette così il presidente della Repubblica può sentiti i loro presidenti sciogliere le camere o anche una sola di esse così dispone l'articolo 88 della Costituzione è un potere enorme che non può essere esercitato nell'ultimo semestre del del settennato eh presidenziale e richiede solo una consultazione dei due presidenti e la controfirma governativa da alcuni ritenuta un mero riscontro formale ma che può essere esercitato in circostanze per motivi che la Costituzione indica e persino senza che il presidente dia una motivazione è chiaro che il presidente possa scegliere sciogliere le camere in caso di crisi di governo e di impossibilità di formare una nuova maggioranza uno dei pari della Costituzione ha scritto che può farlo anche se gli organi rappresentativi rimangono sordi alla voce del paese o se il governo si trovi in una situazione di sfiducia chiaramente risultante dalle manifestazioni dell'opinione pubblica ma come si accerta un cambiamento dell'opinione pubblica si domanda Cassese bastano elezioni locali e sondaggi e si può contare su tali cambiamenti in presenza di mutamenti frequenti dell'opinione pubblica che potrebbero far temere orientamenti in senso inverso o diverso da questi interrogativi si capisce che il potere di scioglimento è una clava che va usata con molta discrezione cautela ancora maggiore suggerisce lo scioglimento in quanto muta in situazioni particolari la durata della carica dei titoli del maggiore organo costituzionale i costituenti dosarono attentamente le durate delle più alte cariche dello Stato dodici anni per i giudici costituzionali sette per il presidente della Repubblica sei per i senatori cinque per i deputati nel sessantatré la durata dei senatori nella carica venne ridotta di un anno nel sessantasette quella dei giudici costituzionali venne portata a nove poi si fa l'esempio qui di eh in particolare dell'America di quel perché erano state previste proprio ehm durate diverse per i diversi eh organi istituzionali e conclude così lo scioglimento delle camere va quindi usato con cautela perché incide sulla diversa durata nelle cariche che è uno dei modi per non concentrare tutto il potere nelle mani di una maggioranza in un certo periodo di tempo quanto a lungo i colori durano nelle cariche quanto diverse sono le durate delle diverse cariche quante volte si può essere rieletti o rinominati sono tutti elementi importanti per la dialettima per la dialettica democratica così eh Cassese abbiamo poi eh Pombeni sul messaggero che parte da Quirinale per affrontare il tema della legge elettorale e eh dice tra l'altro Pombeni ora è bene ricordare che quel cosiddetto semi qui si ritorna al semipresidenzialismo di fatto eh cosa c'è oltre il voto per il futuro presidente e mh dicevamo in prima pagina ora è bene ricordare che quel cosiddetto semipresidenzialismo di fatto su cui si spendono parole non significa poteri che non stanno neppure nella cosiddetta fisarmonica a disposizione del Colle da lì si può certamente indirizzare influenzare e sorreggere non sono cose da poco ma non si possono certo mutare le basi di un sistema parlamentare andiamo a pagina ventisette dove prosegue eh il eccolo qua eh dice ciò cioè rimane intatto il potere dei partiti di esercitare la loro politica attraverso gli strumenti dell'azione nelle aule approvazione delle leggi con la propaganda e i risultati elettorali con la loro presenza nelle articolazioni del sistema a partire dalle regioni e eh diciamo poi fa anche anche i pombeni dice quali sono i poteri del presidente repubblica lo scioglimento le cose via dicendo e fa un'analisi dicendo che in realtà eh diciamo il tema della legge elettorale può incidere molto anche in quello che accadrà nei prossimi tempi e fa una netta diciamo distinzione propendendo a favore del proporzionale rispetto al maggioritario il maggioritario dice sarebbero quelli di Ghibellini di nuovo come è successo già in passato eh schieramenti che si fanno la guerra a tutto campo cosa di cui non c'è bisogno e il proporzionale invece consentirebbe creando maggioranze dopo il voto di una campagna elettorale più leggera e chiude così e pensare che i partiti portino al tavolo del confronto per individuare chi potrebbe essere il candidato migliore per la successione a Mattarella queste tematiche molti forse la maggior parte degli osservatori sarebbero più che scettici sul punto quindi appunto il tema della legge elettorale e le cose di cui vi ho parlato e chiude così poi bene eppure se non si prospetta almeno un'ipotesi di soluzione del rebus che abbiamo cercato di descrivere cioè quello della legge elettorale avremo fatalmente un finale di legislatura prigioniero della rotta politica senza tregua fra il centrodestra e il centrosinistra con l'ampia quota di parlamentari non intruppati in esse che formano una variabile difficile da tenere sotto controllo condizioni più che problematiche per andare avanti con un governo che governi specie se si mantenesse di necessità l'attuale coalizione extra large questa situazione varrebbe chiunque riuscisse eletto per il Quirinale chiunque sedesse a Palazzo Chigi certamente le personalità contano sì che ci sono quelle che possono far meglio anche in condizioni così difficili e altre che hanno abbastanza numeri per farlo anche ai migliori però non si può chiedere di compiere il miracolo di rivoluzionare il quadro politico istituzionale in cui devono operare mentre l'Italia ha assoluto bisogno di non perdere l'occasione di adeguare il suo sistema a quanto richiesto dalle difficili sfide a cui è chiamata a far fronte pombeni sul messaggero e chiudiamo con invece il dubbio dove c'è l'editoriale del direttore che mette in evidenza voi sapete che io per scelta non compro e non leggo il fatto quotidiano questo diciamo mi fa del bene alla salute penso che ne faccia del bene anche a voi resta il fatto che poi magari escono delle cose che scopriamo soltanto il giorno dopo perché che cosa pare che abbia fatto il fatto quotidiano ha iniziato a sparare a palle incatenate contro il povero sottosegretario alla giustizia Sisto dicendo che in qualche modo era il sicaro della cartabbia e secondo adesso lo leggiamo eh travaglio in questo modo sta cercando di far saltare la possibilità di cartabbia quirinale è ufficialmente iniziata scrive varie il direttore del dubbio la campagna del fatto quotidiano l'ipotesi cartabbia col è iniziata con una fake piuttosto spuderata sparata contro il sottosegretario Sisto accusato niente meno che di essere una sorta di piccolo vicinski incaricato sotto banco di occuparsi delle valutazioni di professionità professionalità dei magistrati niente di più falso naturalmente i magistrati vengono valutati e sempre positivamente sic siamo d'accordo da CSN da nessun altro ma tanto basta al fatto per lanciare l'accusa contro Sisto il quale non viene presentato come sottosegretario della giustizia bravo e addirittura preparato come non se ne vedeva da tempo ma come avvocato di Berlusconi il che è sufficiente a giustificare la spericolata e a partita associazione chi vota cartabbia vota la donna che sta delegittimando la magistratura per conto del cavaliere e voilà il gioco è fatto e sì perché il punto è solo quello avvisare i grillini i veri destinatari del messaggio che l'ascesa della ministra cartabbia al colle va fermata con tutti i mezzi anche attraverso attacchi trasversali conditi da qualche fake sempre buona per la pancia del movimento e per il redivivo di Battista che infatti è risorto dall'omblio accusando i suoi i sogni berluschionani più oscuri si stanno via via realizzando nel silenzio in generale grazie ad un governo sostenuto al momento cinque stelle insomma conclude il fatto ha inviato una sorta di pizzino un avviso recapitato in casa grillina che temiamo potrebbe avere qualche effetto così il direttore del dubbio chiudiamo anche eh eh questo capitolo perché ne abbiamo ancora di parecchi da ehm affrontare ehm ehm eccoci qui eh andiamo a vedere eh la eh questione allora intanto ehm il PNRR oggi c'è una notizia che dà il messaggero a pagina quindici che lo mette in relazione con lo spread i timori sul futuro del PNRR fanno aumentare lo spread per G.P. Morgan l'incertezza legata alle scelte per colle e palazzotigi preoccupa i mercati bazo del differenziale tra BTP e BUN tedeschi che si è impennato raggiungendo quota centoquarantuno punti e lo spread va sempre tenuto eh sotto controllo eh questo lo sappiamo invece per quanto riguarda la manovra c'è polemica alla camera eh ce lo dice il Torre della Sera pagina quindici ehm manovra proteste alla camera poco tempo per l'esame delle misure la commissione finanze che ricordo è preseduta da eh Luigi Marattin non daremo il nostro paese il il nostro parere l'ufficio per il bilancio della camera dice sono favoriti i i redditi medio alti con la riforma fiscale questa è una cosa che dice l'ufficio per il bilancio della camera e che viene ripresa sostanzialmente da tutti i giornali andiamo sulla stampa a pagina diciotto a proposito della manovra ehm il taglio dell'IRPEF premia i reddito medio alti lite finale sulla manovra domani la fiducia i dati dell'ufficio parlamentare di bilancio e dice che è premiata la fascia quarantadue cinquanta quattro mila euro saldo zero per quattordici milioni di italiani alla camera il testo arriva blindato così eh la stampa ora guardate eh questo è ehm diciamo ehm quello che appunto dice l'ufficio del bilancio invece il tema delle imprese è messo in evidenza sul eh sole ventiquattro ore in prima pagina imprese rischio da venticinque milioni a fine dicembre scadono le sospensioni dei prestiti previste per le aziende nella legge di bilancio strumenti insufficienti per un'uscita morbida questa è la denuncia che fa il sole ventiquattro ore che sapete il giornale di eh Confindustria ma c'è eh pesa anche sulla manovra sono state messe delle risorse ma probabilmente non basteranno e c'è una forte preoccupazione per quel che riguarda i costi energetici e allora andiamo sulla repubblica pagina ventinove che ci si dice esplicitamente gas allarme imprese intervenga il governo o non riapriremo le aziende energivore chiedono a Draghi interventi immediati contro i ricari sostegno bipartisan all'iniziativa che c'è stata ieri eh della Lega con Matteo Salvini e dal PD con Stefano Bonaccini l'argomento è ripreso eh su vari giornali voglio segnalarvi la stampa a pagina sei eh la paura del black out e la crisi delle industrie che rischiano di non riaprire per il caro energia scrive ehm Francesco Spini che è inviato a Casaglia in Brescia dove c'è stata la manifestazione in bilico settecentomila posti al vertice spunta Salvini a giorni nuove proposte del governo Eni e nel diano una mano e il presidente dell'Anfia Roberto Vavassori dice parli parliamo di settori virtuosi che hanno ridotto le emissioni fate presto o scompariranno e ancora il presidente di Assofond Fabrizio Fabio Zanardi dice in Francia e Spagna e Germania hanno calmerato l'energia facciamolo anche in Italia e subito eh così il eh la stampa vi segnalo su questo anche libero che eh riporta appunto la manifestazione che c'è stata lo fa pagina sei ehm eh emergenza nazionale ultimatum delle imprese a Draghi sulle bollette in tante già ferme servono più risorse ieri nel Bresciano è andata a scena la protesta degli industriali di mezza Italia che chiedono al governo di intervenire al più presto ormai produce al produciamo in perdita si votizza un consiglio dei ministri entro il fine settimana il leader della lega dice è peggio del covid tra l'altro qui Sandro Iacometti parla di eh tecnici in fuga e dice che Cingolani imita il premier il mio lavoro è finito il ministro della transizione ecologica come super Mario obiettivi raggiunti ora non c'è più bisogno di me se altri lo seguono il piano per il colle va in frantumi così libero eh che collega anche eh le eh due cose eh sul lavoro vi segnalo la stampa a pagina sette parla eh con intervista il ministro del lavoro Orlando il salario minimo contro il lavoro povero dopo il voto sul colle rischio urne subito eh dice per battere il covid servono misure più dure obbligo vaccinale lockdown per chi non si vaccina dice per il quarinare è necessario trovare una soluzione che non produca traumi e che faccia sentire garantito un campo il più largo possibile e poi a proposito del lavoro dice la contrattazione non funziona più come in passato va rafforzata ma no ai veti sul salario minimo così tra l'altro il eh ministro del lavoro Orlando poi il Repubblica invece ci parla a pagina quindici del cloud di stato dove ormai si è presa una decisione progetto cloud di stato via libera la cordata italiana a team cassa depositi e prestiti Leonardo e Sogei il primo round della gara sulla digitalizzazione dei dati pubblici cassa depositi in campo anche per il PNRR Aldo Fontana Rosa e Andrea Greco sulla Repubblica eh invece della concorrenza e ci parla il sole ventiquattro ore ha iniziato al Senato il suo percorso ma insomma la concorrenza parte al Senato ma su energie e porti già si frena nel DDL fiscale altri dodici mesi per le concessioni portuali con il DDL recovery slitta al duemila ventiquattro la piena apertura del mercato elettrico sulle spiagge oggi tavolo con Giorgetti e Caravaglia ipotesi di una norma insomma Carmine Fotina ci dice quello che eh accade o meglio non accade sulla concorrenza al Senato eh giustizia vorrei segnalarvi il dubbio perché il dubbio dice quello che io penso da un po' di tempo lo fa a pagina sei e ci si riferisce ai referendum sulla giustizia insomma quel drappello che spera nelle elezioni anticipate per frenare i referendum accadde già nel settantadue per sfuggire a quelli sul divorzio e temuti dalla democrazia cristiana e PC e nell'ottantaquattro contro quello sulla responsabilità civile e qui le due eh figure che si mettono per eh le elezioni anticipate che eh a favore delle elezioni anticipate ci stanno Enrico Oretta e Giorgia Meloni che si danno la mano ehm in occasione di un dibattito eh sembrano essere loro e quelli eh che secondo il dubbio eh vogliono in particolare questo c'è il dramma e la vicenda che vi ho detto ieri e che sicuramente eh ci farà parlare ancora molto della morte del suicidio del consigliere regionale Bursi eh in Piemonte eh di questo parlano tutti i giornali eh vi ho detto ieri che sembrava di rivivere giorni di Tangentopoli oggi è quello che dicono tutti i giornali pagina ventidue Bursi non fu perseguitato dai giudici Torino la nota del procuratore generale Salluzzo dopo il suicidio dell'ex consigliere no a speculazioni politiche e insomma poi però se uno va a leggere eh il eh racconto di Massimiliano Nerozzi quei dieci anni nei tribunali si sentiva il protagonista del processo di Kafka gli amici dice credeva nella giustizia e nella propria innocenza insomma ehm il tema eh Salluzzo può fare tutte le ragioni che vuole il tema c'è d'altra parte se ci spostiamo dal Corriere della Sera a Repubblica andiamo a pagina tredici ehm eh il titolo è questo la morte di Bursi sommersi e salvati dall'inchiesta sul rimborsopoli dopo dieci anni di processi e polemiche si apre lo scontro sulla magistratura il procuratore generale Salluzzo dice non abbiamo nemici o amici insomma vedremo che poi ehm ci sta qualche cosina che farebbe eh pensare che non è esattamente così voglio segnalarvi anche la stampa pagina undici perché oltre a dare politica e giustizia su Bursi l'ultimo scontro e poi però c'è Ispisapia che dice otto anni di processi una sofferenza il nuovo CSM primo passo per cambiare insomma dice bene la riforma cartabia la conia mediatica può avere effetti devastanti e poi dice assolto in primo grado com'è possibile la condanna in appello oltre ogni ragionevole dubbio e questo è il punto che pone eh Fisapia e infatti eh se andiamo sul dubbio eh ci sono due cose è un'intervista alla moglie Angelo si è ucciso perché si sentiva innocente si è ucciso perché lo eh perché lo era dopo l'assoluzione in primo grado l'uomo era stato condannato a tre anni non si era rassegnato a quell'accusa ma alla fine ha perso e appunto eh ci sta una eh il Simona Musco che parla del jacuzzi della moglie dell'ex consigliere regionale e dice la sua è stata una condanna politica ma soprattutto c'è Valentina Stella che intervista il deputato di azione Enrico Costa che mette in evidenza un'altra cosa tutta italiana dopo una soluzione non si dovrebbe poter appellare una sentenza esattamente questo è uno dei temi che eh ci troviamo di fronte ma su questo voglio prendere Tiziana Maiolo sul riformista perché dicevo eh anche lei torna alle questioni che sono legate a Tangentopoli dice Angelo Bursi scrive la Maiolo era quarantaduesima vittima di Tangentopoli ucciso dall'ingiustizia se tolto la vita della notte di Natale come Sergio Moroni come Gabriele Cagliari come i quarantuno che lo hanno preceduto ha lasciato lettere molto precise di accusa contro l'uso politico delle inchieste non un testamento ma una rivendicazione di dignità di con l'immagine di persona per bene che la casta in toga ha voluto togliergli di dosso. Bursi è stato uno dei fondatori di Forza Italia in Piemonte poi capogruppo in regione per quattro legislature dal 95 al 2010 e assessore al bilancio del governatore Enzio Ghigo. La vendetta politico-giudiziaria che lo riguarda si chiama rimborsopoli. È un vero scandalo nazionale nato su un equivoco. I fondi per i borsi spese a disposizione dei gruppi regionali come quelli parlamentari hanno natura privatistica o pubblica e trasformato in una vera caccia all'uomo in ogni regione. Bursi non sapeva come non sapeva nessuno che il suo comportamento sarebbe stato dopo anni dopo ritenuto un reato, peculato, ma un tribunale preseduto da un giudice di quei pochi che decidono con il codice in mano lo aveva assolto. A quella soluzione nell'assurdità tutta italiana con i PM che possono ricorrere contro processi finiti con l'innucenza dell'imputato seguirono una condanna in appello, poi una Cassazione che fa ripetere il secondo grado e infine ancora la condanna, tre anni di carcere con anche le umiliazioni parallele. Rimborzopoli, proprio come la sua collega maggiore, Tangentopoli, è nata in gran parte nei titoli scandalistici di giornalacci, oltre che nella furia dei pubblici ministeri. Angelo, un innocente perseguitato per decenni, ha detto la moglie. Bursi non l'ha sopportato, si è tolto di mezzo, ha scelto la dignità di quel colpo di pistola. Questo è Tiziana Maiolo sul suicidio del consigliere regionale di Forza Italia. Intanto Repubblica, pagina 23, ci parla delle tangenti in Puglia, tangenti in Puglia, soldi e macelleria, all'erario abbiamo dato la manzetta, il dirigente regionale intercettato entra in tasca 10.000 euro e altri 20.000 con un taglio di carne prelibato. Il manager ha gestito centinaia di milioni in mascherine e centri di accoglienza. Questo è quello che ci dice Repubblica. Invece ancora su David Rossi, vi segnalo, il giornale a pagina 11, perché riparla la moglie, caso David Rossi, la famiglia, il procuratore lasci Siena. Il legale Micheli rivela, Marini incompatibile, chiese di insabbiare i festini gay ai quali avrebbe partecipato. L'avvocato deputato del PD scrive al difensore dei PM perché omette la verità e così insomma Felice Manchi ci parla ancora di questa vicenda che certamente riserverà ancora molte cose interessanti. Poi segnalo sulla Repubblica a pagina 23 il caso di un'altra morte in carcere c'è chi, i familiari dicono che è un altro caso Cucchi, perse 30 chili e morì in carcere. Vogliamo giustizia? È come Cucchi, la famiglia del 28enne contro la richiesta di archivazione. Due anni fa Antonio Raddì è morto nel 2019 in carcere a 28 anni. Il tema è ripreso anche dalla stampa a pagina 23, no scusate a pagina 10, 10, non riesco a mangiare sto male, Antonio morto in cella a 28 anni, detenuto a Torino, in sette mesi ha perso 25 mila, 25 chili, i parenti contro l'archiviazione dicono è inaccettabile e a questo proposito, a proposito delle carceri, vi segnalo sulla stampa a pagina 10 un piano della cartabbia. Vi ricordate? Ve l'avevo detto quando gli ho detto che la Bernardini aveva incontrato la cartabbia e che il dubbio ci ha messo in evidenza che gli aveva detto che avrebbe voluto fare qualcosa. Salute, sicurezza, studio per le carceri del futuro è compiano in 35 punti. La ministra cartabbia è pronta ad avviare un progetto rivoluzionario, tante difficoltà per modernizzare una struttura ancora molto arretrata. I primi interventi ristrutturare i locali e assistere alle detenute che devono partorire. E va bene, l'idea di organizzare visite dei parenti e corsi universitari in videoconferenza, insomma ci sono un sacco di cose interessanti, vedremo cosa sarà questo piano della cartabbia. Nel frattempo invece c'è chi ripristina alla vena di morte, siamo sempre sulla stampa, è Giappone a pagina 15, il Giappone, il ritorno del boia, tre esecuzioni per impiccagione nei giorni di Natale, non accadeva dal 2019, l'appello dell'ONG, Tokyo si fermi, ma l'ottanta per cento del paese è d'accordo, così vanno le cose in Giappone. Per quanto riguarda i migranti, non c'è la pena di morte, ma di fatto c'è la morte, ce lo dice l'avvenire a pagina 5, nofragi senza fine del Mediterraneo, la nostra nave speronata dai libici, una trentina di cadaveri allineati sulle spiagge di Comos, ma sarebbero 200 i morti da Natale a ieri, il resoconto dei superstiti ci hanno inseguiti e alla fine ci sono venuti addosso. E tra l'altro, diciamo, vi segnalo sempre sull'avvenire il tema del decreto flussi, ora serve un cambio, un cambiamento legislativo, insomma interviene Monsignor Perego della Migrantes che dice bisogna raddoppiare finalmente le quote, raddoppiare finalmente le quote d'ingresso nel nostro paese, ma non è ancora sufficiente a far fronte alle richieste crescenti, il lavoro degli stranieri nel nostro paese, le quote per l'appunto. Chiudiamo con poche cose di politica estera, c'è il tema della Libia, il Corriere della Sera a pagina 17, c'è se non sbaglio un'intervista con la Williams, che è il consigliere speciale dell'ONU, il cessato e il fuoco regge, è un dato importante, Libia serve un governo stabile, rinviare il voto non è una sconfitta, ecco, è un'opinione assolutamente diversa da quella delle domani, che dedica le pagine 8 e 9 alla Libia e la situazione libica e dice in Libia elezioni rinviate sono un fallimento per l'ONU. Ecco, vedete insomma che ci sono proprio le posizioni opposte nei giornali rispetto al rinvio delle elezioni. Intanto il Corriere della Sera ci parla invece a pagina 18 delle violenze in India nei confronti dei cristiani, India violenze socclusi, noi cristiani nel mirino di estremisti e autorità, chiese e missionari sono accusati di fare proselitismo ed è Annalessandro Muglia che ci scrive di questo nella pagina 18 del Corriere della Sera. Invece la Repubblica si occupa della Somalia, lo fa a pagina 17 dove pure la situazione è critica, la Somalia senza pace premia il contropresidente, tentato gol, pagherà. Il capo dello Stato venrà a sollevare il rivale accusandolo di corruzione ma con quest'ultimo si sono stirate le forze armate. Il paese è spaccato. Il foglio ci parla dell'Afghanistan, è nella prima dell'insetto fuga dall'Afghanistan e Cristina Giudici che scrive Atefa Gafori, giornalista e attivista per le donne, riuscita a salvarsi, ci racconta agli ultimi mesi quanto è già stravolta la vita con i talebani, poi fa un appello e delinea una roadmap per chi non riesce a scappare, così sul foglio. Da ultimo il Myanmar, in questo caso l'avvenire che ce ne parla a pagina 19, ancora violenze, eccolo qui, Myanmar la strage di Natale, decine i cristiani massacrati ed è Stefano Vecchio, Stefano Vecchia sul avvenire a pagina 19. Bene, con questo chiudiamo la segna stampa, se volete ci vediamo domani alle sette e mezza come di consueto e buona giornata a tutti.